Continuano le iniziative della campagna di prevenzione Ottobre Rosa, promossa dalla Lilt Campobasso. Si è tenuto a Larino il convegno di chiusura del progetto Lilt Campobasso e Ascoli Piceno. Modelli gestionali in oncologia, collaborazione tra la Lilt, l'azienda ospedaliera e territorio per la riabilitazione psicosociale. A moderare il medico Giovanni Fabrizio, socio e fondatore della Lilt Campobasso, e la dottoressa Carmela Franchella, presidente Lilt. Tema centrale del convegno, l'importanza del supporto psicologico in un paziente oncologico, come l'evento chiave del processo di guarigione del paziente. Il supporto psicologico serve non solo ad allentare la tensione e quindi a far accettare meglio la terapia, a convincere a volte il paziente a fare una terapia completa, ma migliorando l'umore, lo stato di risposta dell'organismo alla malattia serve a potenziare i risultati che si possono ottenere, quindi aumenta la guaribilità della malattia. Quindi ricorrere allo psicologo, quindi percorrere la strada della psico-oncologia, e noi ormai questa strada la stiamo percorrendo da diversi anni, è determinante, proprio per migliorare la percentuale di guarigione della malattia oncologica. Tra gli argomenti affrontati, la prevenzione e riabilitazione nutrizionale in oncologia. I passi determinanti nella cura del paziente sono la prevenzione primaria, adottando stili di vita corretti per allontanare la malattia, e la prevenzione precoce. Fare diagnosi precoce vuol dire guarire meglio, guarire senza invalidità e guarire in maniera completa. Vuol dire far aumentare la prevalenza, cioè le persone guarite, far diminuire la mortalità, ma vuol dire anche guarire bene, guarire senza strascichi. Un tumore individuato in fase precoce viene trattato in maniera poco cruenta, limitatamente cruenta, e in maniera definitiva, tanto da non avere recidire e da non avere metastasi. Quindi vuol dire che bisogna aderire agli screening nel Molise, quindi un invito alla popolazione a fare mammografie quando arriva la scheda a casa, fare il sangue occulto per la prevenzione del tumore del retto colon e fare il pap test. Cioè nel Molise abbiamo questi tre screening che bisogna rinvigorire con la partecipazione.